Mi scrivono poi su esse di nuovi cani, parlavano in macchina di come poter abilitavano la nuova leva alla vita carceraria e mi disse se i domani si fanno. Per ora sono curioso, capisci? Quei cazzarici continuano, no? A quei tempi era facilissimo, come dire, è come un'ora. Un po' a cercare un'ora, c'era come già la bandera, il pietà, il pietà, il pietà, il pietà, il pietà, il pietà, il pietà e tutti i leghi. Perché non era un paolo. quindi si è toccato con 80 anni, si è fatto 40 anni in galliera, però è innamorato, ammazzato, è innamorato, è innamorato, è innamorato, è innamorato. Dai libri di scuola si dice mai ammettere di fare parte di cosa non è, dai libri di scuola dei bambini, che io lo scrivo, non mai ammettere di fare parte di questa organizzazione. Mi ha detto che sono 100 euro, con tutti i tagli che ha fatto il risultato, abbiamo solo 100 tagli, mi ha ancora aspettato un aiuto, non so che ha chiesto come lì, perché ho però io, ho quante volo a capire, sentiamo dire volato da 10 minuti a me.